ok voilà abbiamo fatto il nostro retriever ora ci mettiamo questi tubi che per il momento non servono ok via questo via la redstone l'ape la teniamo via questi tubi perfetto allora abbiamo il retriever ora ci serve una non bat box ma battery box battery box che si fa in questo modo allora questi qua si fanno così per cui copper e tin ancora copper tin questo è silver abbiamo solo una tin ma seriamente dicendo stai seriamente dicendo stai aia ragazzi stai ah ma non sposti ah scusatemi ragazzi ts marcus hello 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 moto ho understand ho macchinino ho un problema grosso hai visto il live in overo no 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 non lo stavo seguendo allora puoi venire a casa mia però mi seguiva più tuo fratello che te tu che cosa perchè tu non te l'intendi della mod logistics lì l'applied un pochino mi ci sto cementando vieni con me sei in casa ok ho fatto questo impianto ti spiego allora questo qua il primo blocco vabbè lo conoscerai la gas turbine che mi fa il metano ah si poi nella centrifuga bravo e poi il metano mi fa la corrente eccetera vabbè tutto per alimentare la la rotary macerator e la inductone fornese ok allora dal mio impianto di smistamento cesteli gli ho messo l'export qua sopra che mi manda i materiali di cottura nel maceratore e fin qua ci siamo funziona perfettamente ok ora voglio che dal maceratore mi passano la fornace e dalla fornace tornino all'impianto ho provato con gli altri import ed export e non funziona per cui lo stavo facendo con il retriever no 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 mi permetto di spaccarti tutta casa eh se vuoi l'export ed import ce li ho eh si mettili qua sotto e metti gli import qua sotto aspetta che ti vado a prendere perché ammichia stavo spiegando e poi un'altra cosa magari tu lo sai cos'è un bug o ho sbagliato qualcosa io sei noti nella nel rotary occupa solo uno slot non ne occupa due infatti gli ho messo anche no 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 è così eh l'hanno cambiato il rotary praticamente a destra ci va un altro oggetto mi pare che ci fossero dei crafting con il coal ah è solo per tuftare non è che hai doppia adesso è una cosa esce una cosa particolare no non è doppia non è doppia tant'è che io ho un import e due export allora tu spiegaci quello che fa no ma hai dato ah eccole import bus allora con import se tu non gli dici niente lui importa tutto lui ti dovrebbe riprendere tutto però non ti riprende un par di zufoli no non ti prende niente come mai eh no gli hai messo l'import devi mettergli l'export che devi esportare dal macchinario no 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 è in base all'impianto import importa dentro al tuo sistema logistico export e esporta dal tuo legge eh sistema vedi che tu qui hai visto l'export tu qui è l'export che tira fuori e lo mette dentro ovviamente a questo però non capisco perché non lo prende forse non lo vede vediamo laterale no ma io vi ricordo che dal davanti escono oh se non sono babbo con tutti gli impianti dal davanti io esportavo vediamo così vuoi i tubi? ecco lì li sta prendendo bravissimo da davanti ah io invece ho fatto al contrario gli avevo messo gli export beh lo so anche io ci so il cascato in realtà è import dal sistema logistico e se io per dire li dico a stack lui mi riporta via a stack perfetto ha svuotato tutto e tu di qua ci devi mettere un export invece questo qui però gli devi dire che cosa quindi tutte le polveri qui leva questo se non lo sprechi leva questo altro da qui dovrei dirgli che i lingotti no quello che ti ho avanzato forse va qua sopra no no mettiti i cavi metti i cavi metti i cavi no credo che entra aspetta proviamo subito credo che entri la roba lo stesso vediamo no se non è collegato all'impianto è come se non c'è corrente si 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 collegala collegala da sotto da dove pare no il problema qual è dalla fornace e poi devono uscire e riandare nell'impianto eh ma è talmente veloce che in realtà non si può ne sto problema praticamente aspetta vediamo così allora questo fammi prendere e fammele prendere troppo veloce non riesco a prendere la polvere eh mettili in una stack no basta che metti in una stack eh io sono un rompone allora questa qui la giriamo con la svrencina ok allora lui che fa adesso a stack ti prende tutto e te lo riporta dentro all'impianto logistico no? si dall'impianto logistico tu qua lì dici che vuoi le polveri per dire così dovrebbe riportarlo subito qui vediamo un po' se ce le mette no allora forse no da sopra da sopra da sopra devo entrare da sopra da davanti escono ok allora facciamo che brutto però così eh ma non mi interessa che brutto tanto questo qua non è un impianto non è che ci mettiamo che ne so ecco qua vai c'ho quella bianca ok funziona qui ci metti tutti gli altri it's the function guardate guardate ora però mi serve che da qua da davanti mi riesca e mi rivada ancora nell'impianto tacchete metti a stack mettiamo a stack et voilà et voilà ce l'avevo fatta grazie a me ragazzi non grazie a marcus grazie a me marcus non hai servito a un kaiser di nulla no ragazzi a parte di scherzi quello che facevo io era giusto solo che invertivo i cavi tieni questo è tuo dai però che figata l'impianto che ti devo dare due no uno e c'avevo pure i miei no questo è francesco l'unica cosa non mi sta piacendo è il fatto qua della corrente il fatto della corrente? eh devo stare qua ogni volta a mettere bistecche e cose se mi finiscono le bistecche mi finisce la corrente mi sa che rompo l'impianto qua ti dovresti fare scusa le bistecche tu ce le hai giù con i cosi no? si ma se magari tengo l'impianto spento due giorni qua si blocca tutto capito che voglio dire? e tu quell'impianto lo porti a un tier 5 lo fai a distanza mille così non ti da fastidio con un ender chest lo porti qui dividi oro dalle bistecche no e c'è il problema del server che c'è il problema del server che non spawnano i mob dalla distanza di un pc giusto e allora ti fai un mob grinder classico però no no ma quasi quasi tolgo il suo impianto e io lo collego al mio impianto lì c'è l'impianto della lava io ah 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 allora si questo era solo per provare come perché siccome il suo impianto me l'hanno consigliato oggi non sapevo il funzionamento cioè non sapevo che con le bistecche marce facevo la corrente però che figata l'impianto ragazzi dai ammettiamocelo ammettiamocelo che non infeggi ah ok adesso qua mano a mano devo dirgli che per dire perché questi non me li sta asportando adesso bua riga no quelli nel maceratore e il maceratore aspetta perché questi devono andarmi direttamente nell'impianto no 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 perché qualcuno ha messo un iron dust dentro all'import basta levarlo e te li sta ciucciando via chi è che ha messo l'iron dust quello è stato a Kibo ma tu lo vedi il bug che ogni tanto vedi le tue gambe dentro a Rotary Macenerator no vedi già è finita la corrente porca puttana si è vero Francesco c'ha ragione tra casa sua e rendi dovrebbe essere quello più funzionante se lo si fa però comunque laggiù la lava c'è l'ailin no dammi le polvere no ma come mi sparite le polvere l'inventario c'è ma no ma guarda che una figata sto impianto tiri succhia la roba anche dal tuo inventario oh ma avete visto l'induction forness che sta andando senza corrente l'induction perché sta andando senza corrente non me lo chiedere a me ma no aspetta c'è qualcosa che non va è vero no no perché c'ha l'Eat a 100 e si vede che muoce vedi che si accende si spende prima che si scarica si non si riesce a scaricare perché l'impianto la fa andare tranquillamente però se mi finisce il metano si blocca l'impianto cioè questo impianto è perfetto per questo questo cosa anche se ad essere sincero adesso perché ho tanta roba da cuocere ma il query non è che ti trovo ogni 2 secondi qualcosa volendo posso anche farlo così devo fare di un impianto che mi mandi le bistecche e le sell c'è un macello devo fare adesso ma guarda che non è soltanto bistecche stanno anche altri grafting nel senso tipo anche eh beh ma le bistecche marce c'ho quelle da buttare che cavolo mi faccio tutte quelle bistecche marce io ammi la rocchiata no volendo posso farlo sempre con import ed export eh con questi tubi cavolo puoi fare tutto quello che vuoi è veramente una figata se io sto sta mod altro che logistic pipe eh lo sai che io non so d'accordo perché non c'è il supply il saplier no e invece c'è no si che c'è invece no come dimmelo 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 c'è un tubo che non mi ricordo come si chiama che tu puoi dirgli quanti ne vuoi o addirittura ogni quanto le vuoi davvero? te lo giuro come si chiama? aspetta si chiama l'ME se non mi sbaglio perché io ho visto un tutorial e infatti sono rimasto di merda se non mi sbaglio è lo storage lo storage boost lo storage boost se non mi sbaglio ah ma quello con cui ci si fanno gli export e gli import no lo storage boost è un altro tubo che sarebbe lo storage nel senso che se tu lo metti sotto una chest o a un barrel il tuo impianto ti rileva anche la roba di quel barrel hai capito? ah e quindi ci mette ah si fa così è abbastanza sempre aspetta guarda ragazzi lo prendo un attimo con too many items però lo butto vediamo un attimo lo funzionamento ok l'ho preso sostanzialmente ok guarda lo metto a terra vedi che è più grande degli altri se lo apri guarda è uno storage oddio aspetta questo è il mio sta azzardare però non è questo quello che dicevo io è il mio storage boost vediamo se in chat lo sa qualcuno qual è non è quello per metterci tipo i barrels aspetta con le chest ah dicono che è l'emitter emitter è vero c'è anche un altro l'emitter è quello lì che va a leva questo qua lo vedi si eccolo qua eccolo qua eccolo qua per cui buttiamoli dove sono uno è qua e l'altro è qua no ce n'era un altro ancora porca loggia ragazzi chi è che lo sa in chat sta bloccando sta bloccando è l'emittente io voglio dire l'emittente è l'emitter quello che ti ho fatto vedere adesso lagga un po' no non sta laggando il live allora aspetta un altro vediamo allora il dark cable quello se non mi sbaglio è quello che puoi accendere e spegnere giusto? oh boh non lo so è me dark cable ah si questo qui c'è una leva magari tuo fratello lo sa e qual è è me io e porto vabbè poi proverò in creativo ma sai che non mi sbaglio ma sai che non mi sbaglio è proprio l'import e l'export che possono fare da quella funzione? no ce l'ho provato in tutte le maniere però c'è il modo io sostanzialmente devo che mi entrassero che ne so sempre due pezzi di cobblestone dentro un macchinario ma non di più e una volta che li levi ritornano due tipo import però non l'ho trovato vabbè ma se c'è allora si è meglio dello GXD pipe vai a cagare ragno schifoso ho rotto un vetro no questo non è ah questo è mio non c'è però niente buttiamo tutto voilà togliamo la creativa mi sono fatto il telecomandino wireless eh anche io lo voglio in casa è una figata così non vado una volta poi me lo linko me lo linko al coso tuo e da casa te zotto le cose oh no bravo hai fatto una bella idea adesso lo faccio anche io il coso guarda adesso va tanto qua l'impianto l'ho finito purtroppo è un po' spuzzoloso perché di base c'ha 16 se non sbaglio di raggio lo puoi aumentare no puoi farlo aumentare fino a 64 e c'è un trucchetto che la 64 lo puoi portare fino all'infinito vabbè che ti porti altri emitter eh bravo ti porti coi cavi si no da wireless a wireless sai che tu c'hai due macchinari wireless da wireless a wireless se il coso è accumulabile avevo parlato una volta con kai fred che doveva provare anche lui però so che la stanno potenziando sta mod per farla funzionare anche con altri mondi allora io devo andare qua adesso lo faccio anche io il coso wireless così ti fotto allora andiamo qua gli mettiamo tutto dentro hai della pietra rossa che t'avanza? eh pietra rossa di che tipo? questa qua